ma io dico una cosa no parlo a cc cc è il commissario tecnico brasiliano perché nel suo paese tite si pronuncia cc allora mi proprio mi rivolgo a tre cc ma dico ma proprio tu che hai portato il brasile ad una dimensione più europea proprio che tu che sei riuscito a costruire una squadra a far convivere tanti solisti all'interno di una formazione ma proprio tu cc mi prendi gol a un uno sputo dalla semifinale mondiale in contropiede in vantaggio di 1 a 0 in possesso di balla io partirei da qui per per evidenziare le mancanze di questo brasile che si fa trascinare i calci in rigore da una splendida croazia una splendida croazia io un giorno scriverò un libro che si intitolerà innamorato di luca modric ma non solo so che voi adesso non mi crederete perché dice hai detto adesso e faccio no però posso garantirvi è vero potrebbe dire la persona con la quale ho visto la partita che nel momento in cui è entrato brunone io ho detto bruno stasera la mette e bruno l'ha messa vabbè a parte questo piccolo vanto e non me lo sono giocato perché avrei potuto anche giocarmelo ma insomma questa cosa qua questa sera il brasile aveva fatto tutto quello che serviva per andare in semifinale mondiale perché aveva giocato una partita un po più propositiva rispetto alla croazia aveva creato qualche occasione non grandissime cose ma qualcosa soprattutto nel secondo tempo aveva creato aveva giocato anche meglio in quella parte di gara rispetto alla croazia aveva trovato un gol meraviglioso semplicemente meraviglioso di neymar che dimostra di avere un talento infinito ma dimostra di avere anche probabilmente fatto scelte o forse comportamenti non proprio adatti a tutto il talento che ha nel bagaglio ed era davvero un passo dal tornare dopo otto anni in una semifinale di un mondiale e invece riescono a prendere un gol in contropiede da una croazia che era potenzialmente a terra perché stanca fisicamente anche anche se ci sono stati dei cambi in difficoltà quando si trattava di attaccare perché tutto sommato la croazia non ha a parte quel tiro lì io non mi ricordo sinceramente di conclusioni verso la porta di allison pericolose intendo e quindi potenzialmente la potevi ammazzare col possesso palla e ti facevi rincorrere la tecnica ce l'avevi e invece no sei riuscito a prendere un gol a pochi a cinque minuti da due minuti tre minuti dai calci di rigore e poi ovviamente ai calci di rigore perdi perché quando arrivi psicologicamente quella condizione nove volte su dieci se non nove e mezzo su dieci perdi perdi e vai a casa i croati si sono dimostrati infallibili dal dischetto anche i brasiliani a parte a parte due che hanno fallito quindi non tanto infallibili un po meno infallibili dal dischetto e se ne sono tornati a casa con una delusione enorme perché a differenza di quattro anni fa dove furono estromessi da un belgio che in quella partita si era dimostrato superiore questa volta c'erano tutti i presupposti anche da un punto di vista proprio di come dire di proposta offensiva per fare meglio perché è vero che la partita è stata per lunghi tratti equilibrata è vero che finché ne ha avuto da un punto di vista di benzina di energia la croazia che arrivava comunque da un supplementare un rigore col giappone ha tenuto testa benissimo i brasiliani palleggiandolo anche in faccia con una strategia che però secondo me era abbastanza studiata da parte del brasile perché tutti prevedevano una partita con il brasile in controllo e la croazia in contropiede ma guardando i giocatori in campo si sarebbe come dire pronosticato più facilmente il contrario cioè un brasile che lascia la palla alla croazia e prova poi ad andare in contropiede una volta recuperata ma si è trovato di fronte a un enorme problema cioè la croazia ha una difesa veramente fortissima difesa fortissima che gira intorno a un giocatore straordinario al miglior difensore nel mondiale per distacco e sto parlando naturalmente di guardiol e siccome il difensore come il pesce cioè lo si vede dall'occhio tu guardi guardiol e ti rendi conto subito che è un potenziale futuro campione perché è un difensore che riesce a mantenere per 130 minuti la concentrazione su quello che deve fare non ha perso un attimo di vista l'obiettivo della serata è stato capace di far fare una grande partita anche all'obren che ha giocato una grande partita chiudendo qualsiasi cosa vincendo tutti i duelli permettendo anche alla croazia qualche volta di rendersi leggermente sbilanciata verso la porta di allison perché tanto sai che dietro c'hai uno così quindi il brasile si è scontrato contro una squadra che ha una grandissima fase difensiva tant'è che ogni volta che il brasile li conquistava il pallone c'era intanto un po di fatica a portarlo avanti perché il palleggio orizzontale del brasile che stasera ha un pochino sfiancato ma nelle poche circostanze nelle quali il brasile è riuscito ad andare in verticale ha messo nei mal due volte davanti al portiere quindi ci sarebbe stato probabilmente come dire l'opportunità per fare un po meglio per quel che riguarda la proposta offensiva ma ripeto qui siamo nel campo secondo me dei tanti demeriti quanto meriti dall'altra parte perché la croazia ha fatto una partita difensivamente parlando eccezionale poi dal punto di vista offensivo si poteva anche immaginare non avendo un centro avanti o per meglio dire avendolo e in panchina ma non un centro avanti di livello internazionale come poteva essere manzukic però però poi dopo col centro avanti sono andati a risolvere la questione dimostrazione ancora una volta che il centro avanti serve o fin tanto dicevo che la croazia ha avuto benzina ha mostrato anche quanto bello sia avere un centrocampo con giocatori così perché io ho visto dei palleggi tra kovacic brozovic modric il ivacovic il terzino destro ha fatto ha fatto schiena ivacovic il terzino destro non mi confondo che lo confondo col portiere no perché ho fatto un po di confusione adesso aspetta no ivacovic il portiere iuranovic chiedo scusa iurano iuranovic il terzino destro ha fatto una partita mostruosa finché ha avuto benzina in corpo e il brasile ha preso poi possesso anche all'inizio del secondo tempo della partita ha preso possesso della partita io onestamente io ascoltavo o guardavo la tv e ascoltavo il commento alla radio di beppe d'ossena che a un certo punto ha detto quando c'è stata la sostituzione che è uscito vinisius che tra l'altro è uscito al 64esimo minuto anche beppe d'ossena ha detto ma sinceramente tra tutti quelli del brasile io non avrei fatto uscire vinisius perché tito aveva già cambiato dalla parte opposta perché è uscito raffigna è entrato entodi senza cambiare un granché la sostanza non ha gabrie gesù ha dovuto far entrare pedro che sapete sopra passaggio fugace e senza tracce a firenze dall'altra parte onestamente insomma diciamo che tra rodrigo e vinisius ci sono ancora delle categorie di differenza ancora adesso quindi io anch'io non l'avrei cambiato onestamente il brasile non ha spinto molto con i terzini non ha spinto molto che terzini perché a destra militao non è non era un terzino di ruolo perché a sinistra da nero non è un terzino di ruolo e quindi si è perso un po dal punto di vista proprio di struttura di squadra quella spinta sulle fasce laterali che poteva essere una buona arma d'offesa anche perché voglio dire il brasile ha provato per tutta la partita ad andare centralmente poi è vero ad un certo punto è riuscito un'azione bellissima quella del gol un'azione bellissima ma proprio da alzarsi in piedi per quanto dei mari insomma non sia diciamo il calciatore più simpatico della terra anzi è nelle ultime posizioni però c'è davvero a togliersi cappello e inchinarsi di fronte alla bellezza del gol perché fa un'azione al di là di che la imposta lui scambia con rodrigo il pallone di paquetà ma lui come riesce con una fitta di corpo a far fuori il difensore e il portiere è una roba meravigliosa segna a quel punto tu pensi boh croazia non ne ha più brasile cosa fa un po si rintana un po si proietta in avanti c'è tutto un casino scusate come dire l'espressione poco tecnica ma c'è stato tutto un casino a un certo punto si è vista nel replay del gol della croazia si è vista proprio la camera dall'alto e tu vedevi questi giocatori questi quattro disperati brasiliani difensori che rinculavano cercando di capire che cosa potesse accadere a quel punto il nuovo entrato che è orsic che è quel ragazzo che abbiamo visto noi con la dinamo di zagabria a quel punto ha messo quel pallone intelligentissimo a ritroso e pectori ci ha segnato con un po di fortuna perché c'è stata una forse due deviazioni però a quel punto voglio dire mi dispiace ma a questi livelli in queste partite con una squadra dall'esperienza della croazia ma soprattutto con una squadra di carattere come la croazia una squadra che non molla mai una squadra che è sempre tranquilla l'abbiamo visto in tutto il mondiale tu non puoi rilassarti nemmeno un secondo oltretutto il brasil è stato concentrato per tutta la partita più o meno insomma diciamo non ha avuto non ha fatto grossi svarioni dal punto di vista difensivo e lì sei a un passo dalla finale dalla semifinale da giocarti anche una partita o con l'argentina o con l'olanda figuriamoci con l'argentina semifinale mondiale e becchi quel gol lì ma una roba incredibile cicci ma che cosa combini vedremo tra poco contro chi giocheranno in semifinale ci sentiamo alla fine di olanda argentina cicci grazie a tutti